45 giri, ritorno alla fiera del vinile alla casa della musica a fuori grotta, non edizione di Disco Days, 12 ore incontro dalle 10.30 alle 22.30, appuntamento da non mancare per collezionisti e amanti del disco, ma anche per chi vuole conoscere tutte le novità su etichette discografiche, artisti e professionisti del settore.